Curva ancora in aumento e strutture sensibili di nuovo sotto pressione sul territorio Perigno-Sangrino alle prese con l'ondata autunnale. Sono 52 casi di Covid-19 confluiti nell'odierno bollettino, comprese 10 reinfezioni distribuiti sui vari centri del comprensorio. 23 a Sulmona, 6 a Castel di Sangro, 4 a Corfinio e Raiano, 3 a Rivisondoli, 2 ciascuno a Scanno, Prato La Perigna, Pesco Costanzo, un caso per Roccaraso, Pettorano-Sulgizio, Introdacqua, Goriano-Sicoli, Barrea e Alfedena. Le odierne positività superano le rilevazioni di una settimana fa, quando venivano annotati 38 contagi su registri ASL. Il trend resta in salita, ma l'occhio di riguardo si focalizza sui luoghi sensibili del territorio, già gravati da carenza di personale, con i sanitari che nel post-emergenza da eroi sono passati a dimenticati. Il focolaio più vasto riguarda la casa di riposo sulmonese, dove sono emerse negli ultimi giorni una ventina di positività tra ospiti e operatori rilevati in base al comune di residenza. Tre anziani sono stati ricoverati, di cui uno tenuto in osservazione nell'ospedale di Sulmona e un altro in quello dell'Aquila. Purtroppo in queste ore si è registrato il decesso di una 95enne residente a Prato La Peligna, che era entrata in struttura con un quadro clinico già compromesso. Il suo nome, sulle fini statistici, si inserisce nel registro nero del Covid. Un nuovo fronte sta interessando anche il reparto di medicina dell'ospedale di Sulmona, dove due pazienti hanno contratto l'infezione, ma sono stati prontamente isolati, uno trasferito in area grigia, l'altro nel reparto. La situazione quindi appare sotto controllo, nonostante l'inevitabile rimodulazione interna dei posti letto. D'altronde le condizioni dei contagiati, anziani non solo, risultano pressoché buone, gestibili per via dei vaccini e delle sottovarianti non più aggressive come la versione originale del virus. Infine il virus non sembra mollare carcere di piazzare vittime del dovere, poiché l'ondata tunnale riesce a scavalcare le sbarre di una struttura penitenziaria di massima sicurezza, dove oggi si registra una nuova positività tra i detenuti. Complessivamente sono 1174 gli attuali positivi sul comprensorio, compresi quattro degenti che risultano in area non critica. Grazie. Grazie.